In questa lezione inizieremo lo studio della radice quadrata. Iniziamo osservando una cosa. Quando abbiamo studiato le quattro operazioni, abbiamo notato che addizione e moltiplicazione hanno un'operazione inversa. L'addizione ha la sottrazione come operazione inversa, la moltiplicazione ha la divisione. Quando abbiamo studiato l'elevamento a potenza, non abbiamo notato un'operazione inversa. In realtà, l'operazione inversa della potenza è proprio la radice quadrata, nel caso di esponente 2. In caso generale, l'operazione inversa della potenza è l'estrazione della radice. Facciamo un esempio. Se io so che 5 alla seconda fa 25, 5 è la mia base, 2 è l'esponente, 25 è il valore della potenza. L'operazione inversa della potenza è quella che mi permette di calcolarmi la base conoscendo esponente e valore della potenza. Quindi io voglio sapere qual è quel numero, quindi la base, che elevato alla seconda mi dà 25. E per saperlo, devo fare l'estrazione di radice, quindi scrivo radice quadrata di 25, uguale, e mi serve il numero che elevato alla seconda faccia 25. E so che quel numero è 5, quindi la radice quadrata di 25 è 5, perché 5 alla seconda fa 25. Un altro esempio che possiamo fare è con la radice quadrata di 25. L'esponente quadrata di 25 è la base della potenza, quindi l'esponente della potenza diventa l'indice della radice e il valore della potenza è il numero di cui io sto calcolando la radice, che si chiama radicando. Facciamo altri esempi. 4 alla seconda fa 16. Operazione inversa, la radice quadrata di 16 è 4. Nella radice quadrata non scriviamo l'indice 2 perché è sottointeso. Altro esempio, 3 alla terza fa 27. Radice quadrata di 27 è 3, perché 3 alla terza fa 27. Altro esempio, 2 alla quarta fa 16. Operazione inversa, radice quadrata di 16 è 2. Arriviamo adesso a scrivere la definizione dell'operazione estrazione di radice. L'estrazione di radice è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza. Infatti ci permette di calcolare la base conoscendo l'esponente e il valore della potenza. Vediamo adesso cosa vuol dire estrarre la radice di un numero. Iniziamo dalla radice quadrata. Estrarre la radice quadrata di un numero significa calcolare quel numero che, elevato alla seconda, dà come risultato il numero di partenza. Quindi, estrarre la radice quadrata di 36 vuol dire calcolare quel numero che, elevato alla seconda, mi dà 36. Quindi, quel numero che è moltiplicato per se stesso, mi dà 36, ed è 6. Quindi, la radice quadrata di 36 è 6, perché 6 alla seconda fa 36. Altro esempio, la radice quadrata di 81 è 9, perché 9 alla seconda fa 81. Tutto questo vale anche per altri esponenti, quindi per l'esponente 3, 4 e così via. Quindi, modifichiamo questa definizione in generale. Quindi, estrarre la radice, non quadrata, ma in generale la radice di un numero, significa calcolare quel numero che, elevato alla potenza, dà come risultato il numero iniziale. Quindi, io calcolo la radice quadrata, oppure cubica, quarta e così via. In generale, possiamo scrivere così, che la radice con indice n di un qualsiasi numero è uguale a un altro numero se il numero che ho calcolato, elevato alla n, mi dà il numero sotto radice. Ovviamente, n deve essere diverso da 0. Quindi, facciamo un esempio Calcoliamo la radice quadrata di 9 Quindi, il mio n, in questo caso, è 2 e a è 9 Devo calcolarmi b Quindi, devo trovare un numero che, elevato alla seconda, mi dà 9 che è 3 Quindi, ho scritto che 3 alla seconda è uguale a 9 Questo è n Questo è b E questo è a Ma questo, abbiamo detto, non vale solo per la radice quadrata ma per una radice qualsiasi Quindi, altro esempio La radice cubica di 8 è 2 perché 2 alla terza è uguale a 8 Quindi, questo è a questo è n e questo è b Quindi, indice della radice diventa l'esponente Il numero sotto radice diventa il valore della potenza e il valore della radice è la base della potenza Radice cubica di 27 E' 3 Perché 3 alla terza fa 27 E così via Potremmo fare infiniti esempi Diamo adesso i nomi a tutte le parti della radice Allora Il numero di cui io voglio calcolare la radice quindi A si chiama radicando Il simbolo radice di n si chiama segno di radice N che è il numero che scrivo qui in alto si chiama indice del radicale Il risultato, quindi B si chiama radice quadrata se l'indice è n cubica se l'indice è 3 radice quarta se l'indice è 4 e così via Passiamo adesso solo alla radice quadrata Abbiamo detto che la radice quadrata di un numero è quel numero che è elevato alla seconda da come risultato il numero dato Allora facciamo un po' di esempi La radice quadrata di 1 è 1 La radice quadrata di 1 è 1 perché 1 alla seconda cioè 1 per 1 fa 1 La radice quadrata di 4 è 2 perché 2 alla seconda fa 4 è 4 Vi ricordo che l'indice 2 non si mette è sottointeso La radice quadrata di 1 La radice quadrata di 9 è 3 perché 3 alla seconda fa 9 La radice quadrata di 16 è 4 perché 4 alla seconda fa 16 La radice quadrata di 25 è 5 perché 5 alla seconda fa 25 Quindi vi ho scritto le radici quadrate solo di numeri interi senza la virgola e sono soltanto i primi 5 esempi perché esistono ovviamente infiniti esempi della radice quadrata Quello che dobbiamo notare è che la radice quadrata di tutti questi numeri che io vi ho scritto qui è proprio un numero naturale quindi un numero intero Però questo non è vero per tutti i numeri perché io potrei chiedermi la radice quadrata di 2 di 3 di 5 di 6 e così via La radice quadrata di tutti questi numeri che sto citando non è esatta cioè non è un numero intero ma è un numero decimale Quindi dobbiamo distinguere due casi Il caso in cui la radice quadrata è esatta cioè un numero intero senza virgola allora quei numeri che hanno la radice esatta si chiamano quadrati perfetti mentre i numeri che non hanno la radice esatta non sono quadrati perfetti Quindi, esempi di quadrati perfetti è 1 perché la sua radice è 1 4 perché la sua radice è 2 9 perché la sua radice è 3 quindi tutti quelli che abbiamo visto in questi esempi 16 perché la sua radice è 4 25 perché la sua radice è 5 36 perché la sua radice è 6 49 perché la sua radice è 7 64 perché la sua radice è 8 e così via sono infiniti quindi hanno la radice quadrata esatta quindi esiste un numero intero che elevato alla seconda ci dà esattamente il numero di partenza esistono però numeri che non hanno la radice quadrata esatta quindi numeri che non sono quadrati perfetti quindi ad esempio 2 3 5 6 e così via infatti la loro radice quadrata è un numero decimale quindi non esiste un numero intero che elevato alla seconda ci dà esattamente il numero considerato possiamo concludere questa prima lezione dicendo che l'estrazione di radice non è un'operazione l'estrazione di radice quadrata non è un'operazione interna all'insieme n vi ricordo che n è l'insieme dei numeri naturali ad esempio la radice quadrata di 5 non è un numero naturale quindi non appartiene ad n mentre la radice quadrata di 4 è 2 e 2 appartiene ad n quindi l'estrazione di radice quadrata non è interna ad n perché quando io calcolo la radice quadrata di un numero naturale perché 5 è un numero naturale non sempre ottengo la radice che è un numero naturale 4 appartiene ad n e la sua radice appartiene ad n 5 appartiene ad n ma la sua radice no quindi l'operazione di estrazione di radice quadrata non è interna all'insieme dei numeri naturali nella prossima lezione vedremo come si fa a riconoscere se un numero è un quadrato perfetto o no senza calcolare la sua radice vedremo come si fa a riconoscere